Si è tenuto presso l'Holiday Inn il convegno annuale della Fondazione Sinapsi. Quest'anno come tema cardine è stato scelto il gesto sportivo tra mente e corpo insieme alle nuove tecnologie. Tante le associazioni che sono intervenute e che abbiamo incontrato. Andiamo a scoprirle. L'associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro è da anni attiva sul territorio per promuovere la prevenzione primaria e non solo. Noi collaboriamo con la Breast Unit di Salerno dove offriamo un servizio di accoglienza e supporto psicologico per le donne che si trovano a vivere una patologia oncologica mammaria. E non solo. Una delle nostre attività principali è il telefono oncologico. Una helpline attiva tutti i giorni dove chi ha bisogno di avere delle informazioni circa le patologie oncologiche può chiamarci e noi interveniamo dando delle informazioni e un supporto reale. Oggi siamo qui come ospiti di Alessandra De Robertis, presidente dell'associazione Sinapsi. Da anni collaboriamo. A fronte di un contributo dato dalla fondazione Sinapsi daremo a tutti i partecipanti del convegno delle piantine aromatiche. Stamattina qui siamo con i ragazzi di alcune delle associazioni per cui l'associazione fanno laboratorio e sono l'associazione Anaima di Cava, i genitori della nostra famiglia e il girasole. Praticamente stamattina hanno esposto alcuni dei loro lavori. Tra l'altro hanno preparato tutti i gadget per i convegnisti qui della mostra. Quindi saranno loro proprio a donare quello che è il loro prodotto inerente proprio al convegno. Praticamente l'associazione vota proprio a quello che è la disabilità e la ceramica è l'arte che forse li prepara di più, nel senso che è un'arteterapia completa. La nostra associazione opera già da circa dieci anni a Salerno e sintetizza la sua attività con tre sostantivi. Mare, cultura, solidarietà. Mare è la nostra passione. Ci piace divulgare con la didattica quindi la passione per il mare e il modo più sicuro per poterlo affrontare. E la solidarietà perché riteniamo che questa nostra passione possa essere condivisa da tutti. La fondazione ha iniziato questo progetto tre anni fa circa per portare i nostri ragazzi sulla barca a vela per farli fare un'esperienza diversa. E da quel momento è nata una relazione e collaborazione con l'associazione. Ovviamente cerchiamo di diversificare ogni anno il tipo di progetto e portare bambini diversi che possono fare questo tipo di esperienza. Siamo qui con i rappresentati del magnifico teatrino errante di Bologna che domani faranno una rappresentazione teatrale. Adesso scopriremo di che cosa si tratta. E' uno spettacolo che nasce dalle storie vere degli attori che poi vedrete in scena. Va in scena domani alle 18 al teatro di Mercato San Severino. Lo spettacolo quindi è la rappresentazione dei protagonisti sul palco? Sì esatto. Nasce proprio dalle storie personali dei quattro attori principali di questo spettacolo. Dunque il convegno è stato così concepito con una logica che riguarda la possibilità di cominciare a ragionare di scienza. E che questa scienza in qualche modo possa avere anche una connotazione di un linguaggio che possiamo ascoltare nella quotidianità. Per cui è un po' questo, se vogliamo, l'obiettivo più alto che abbiamo voluto perseguire. Mi sembra che finora ci siamo riusciti. Spero che insomma possa continuare così. E' un po' questo, se vogliamo, l'obiettivo più alto che abbiamo voluto.